A voi non ci sono trattative? Allora, lo stato di confusione in cui si trova il PD mi sembra che sia totale. Lunedì scorso abbiamo chiesto un incontro a giovedì. Ci è stato detto di no, giustificando in maniera surreale, io direi anche ridicola, sul fatto che non avevamo risposto alle domande. Noi abbiamo chiesto, abbiamo detto, le risposte le abbiamo, le diremmo a quel tavolo di confronto e avremmo anche portato altre nostre proposte. Ci hanno chiuso la porta in faccia perché probabilmente nell'incontro segreto di giovedì scorso che hanno fatto in fretta e furia prima del nostro incontro tra Renzi e Berlusconi hanno posto sul tavolo altre questioni che forse non conosciamo. Io ritengo che sia inaccettabile che di quell'incontro non sia trapelato nulla. Noi comunque siamo ancora fiduciosi, sono le 13, le 14, non lo so, chiediamo che l'incontro ci sia. Oggi abbiamo indicato parte di ciò che avremmo portato a quel tavolo di confronto. Aspettiamo una risposta dal PD che spero esca da questa impasca e a dir poco ridicola per il proprio elettorato e per i cittadini tutti.